Il nostro intervento oggi sarà finalizzato a rilevare quelle che sono le insidie che la rete nasconde e soprattutto anche dare i suggerimenti sul corretto utilizzo della stessa. In particolar modo parleremo dei rischi che vedono i minori coinvolti, i minori che sempre più spesso sono ormai legati alle tecnologie, ne fanno ormai un largo utilizzo però è opportuno che di questo utilizzo venga fatto in una maniera consapevole perché spesso abbiamo riscontrato alla luce della nostra esperienza che pongono in essere dei comportamenti pregiudizievoli per sé e per altri. E allora verrà anche illustrato il compito che la Polizia Postale delle Comunicazioni svolge quotidianamente nell'arco di tutto l'anno scolastico volto proprio a delle vere e proprie campagne di sensibilizzazione e di educazione alla legalità.